Un operaio di 50 anni e il figlio di 23 anni, originari di Campobello di Vicata, nell'Agrigentino, sono rimasti feriti in seguita ad un'aggressione a coltellate da parte di un conoscente col quale avevano avuto un litigio per futili motivi. L'episodio è avvenuto nelle campagne di Butera. Padre e figlio sono stati trasportati all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e non sono in pericolo di vita.